Il mio libro da inserire nell'ambito della cultura di impresa è l'arte della guerra di Sun Tzu, un filosofo e stratega cinese che ha scritto delle cose molto interessanti 2500 anni fa che però sono molto corrispondenti al mondo globale e ci permettono di capire molte cose della Cina moderna.